la natura la mia giornata sono i primi due volumi della collana in bianco e nero illustrazione di raffaella castagna lapis edizioni la natura cosa si nasconde dietro la farfalla un tenero fiore dietro la foglia un grande albero e tra mare e balene nuvole e pioggia fanno capolino la luna e le stelle la mia giornata le giornate di ogni bambino sono fatte di piccoli grandi oggetti che ama riconoscere la palla ma anche il piatto della pappa il sole e il pigiamino piccoli volumi cartonati ispirati ai principi montessoriani studiati per rispondere alle esigenze visive dei primi mesi di vita e stimolare il piacere della scoperta nelle successive fasi della crescita l'utilizzo del bianco e nero con un colore primario favorisce lo sviluppo delle abilità visive mentre l'originale meccanismo scorrimento permette ai bambini più grandi di divertirsi a togliere le card per scoprire le immagini sottostanti e prendere confidenza con le prime parole trasformando il libro in un oggetto da esplorare la natura la mia giornata sono i primi due volumi della collana in bianco e nero illustrati da raffaella castagna lapis edizioni